Ciao ragazze, ciao belle donne! L'uomo di cui sono innamorata si è fidanzato con un'altra. Quando immagino lui che fa l'amore con un'altra, sto malissimo. Che cavolo le ha dato quella là in più che io non sono riuscita a dare? Ecco, prima o poi nella vita capita di trovarci in una situazione simile, chi prima, chi dopo, ma accade, mai dire mai nella vita. E' capitato anche a me? Mica Dio mi risparmia qualcosa? Mi è capitato. Cosa possiamo fare affinché questo dolore che proviamo diminuisca, sparisca? Perché in questa situazione non ne puoi più piangi, ti fai le domande, ti stressi, non dormi di notte e non trovi le risposte. Quindi vai incontro ad uno stress molto forte e a volte anche a una depressione vera e propria. Cosa possiamo fare esattamente affinché questo dolore diminuisca, sparisca e finalmente troviamo un po' di pace e di serenità? Mi presento per chi non mi conosce, sono Silvia Golovacinski, esperta in sensualità e relazioni di coppia. Aiuto tutte quelle donne che sono incasenate sentimentalmente a sbloccarsi, a rivedersi, a ritrovarsi belle, a essere padrone del proprio corpo e della propria vita sentimentale. Faccio con le donne un percorso, mi amo per amare, strutturato proprio per le necessità delle ragazze e delle donne, dove in otto incontri ti trasformi migliori. Cambi veramente la versione di te e in una versione la migliore di me stessa e sei pronta per amarti e per amare gli altri. L'altro, quello adatto a te. Allora ragazzi, cosa possiamo fare per diminuire, allontanare il dolore prima possibile? Diamoci un po' di risposte chiare, ben chiare, perché cosa fa? Da dove nasce il dolore? Nasce perché ci troviamo tradite, ci troviamo umiliate, ci vergogniamo a parlare con le amiche, con i conoscenti, oddio, eccola la cornuta, ci sembra che dicono, pensano così, eccola la cornuta. Ci facciamo mille domande in continuazione, proprio un tilt così, perché, come mai, cosa ho fatto, perché proprio io, cosa cavolo ho fatto di sbagliato, perché, insomma, mille domande e andiamo così in cortocircuito fino allo sfinimento. Allora, diamo risposte chiare a tutte quelle domande che ci facciamo e vediamo un'altra versione che tu magari adesso non vedi perché sei molto confusa, molto addolorata. Allora, l'uomo di cui sono innamorata si è fidanzato, di cui sono innamorata io. Lui lo era veramente innamorato se si è fidanzato con un'altra? Che tipo di sentimenti provava lui per te? Questa è una domanda che ti viene spontanea così. Ma adesso vediamo anche a te, ragazza, donna, che tipo di sentimento provavi tu per lui o provi anche tuttora? Ci sono quelle ragazze, quelle donne, persone in generale che si innamorano così follemente, un amore proprio spontaneo, quasi adolescenziale, quello dove ti palpita il cuore quando lo vedi, non vedi l'ora di vederlo, di stare insieme a lui dalla mattina, alla pranzo, a cena, di notte, sempre, sempre il peccato appiccicato a lui. Non capisci niente, sei molto emozionata e vuoi stare sempre, sempre, sempre con lui appiccicato. Quello è un amore, tra i primi amori adolescenziali, molto innocui, davvero molto forti. Tu provi per lui, hai provato per lui un amore così oppure hai i tuoi perché. Vuoi stare con lui? Perché ti sei fidanzata? Perché hai scelto lui? I tuoi perché. Ogni persona ha i suoi perché perché sceglie un'altra persona. Vediamo un po', immaginiamo, supponiamo la versione perché tu hai scelto lui, ti sei fidanzata con lui, i tuoi perché. Facciamo alcuni esempi. Alcune donne cercano un uomo, si fidanzano perché è molto somigliante, somiglia al padre perché il padre per lei era il suo primo vero amore. Un esempio. Quindi stai cercando quel padre buono, positivo, bravo in tutto per sposarti anche tu uno simile. Oppure ci sono donne e ragazze che cercano un padre che è totalmente diverso, un fidanzato, un marito che è totalmente diverso dal padre perché il padre non era un buon esempio che cazzo negli orecchini, ma fa niente, sono bella lo stesso. Perché il padre non era proprio un bel esempio. Nel mio caso, io ho avuto un padre e cercavo un uomo che era totalmente diverso dal mio padre perché il mio beveva, fumava, picchiava, non strogava, ma ha fatto di tutto e di più. Quindi per me, io ho sempre cercato un uomo diverso dal mio padre. uno che non fumava, che non mi metteva le mani addosso, che era sereno, tranquillo, non casinista, che faceva disastri come il mio padre, e uno intelligente perché il mio era una capra. Cioè, era bravo a fare alcune cose molto bene, ma culturalmente diciamo che c'è di molto meglio. Mi dispiace parlare così di mio padre, ma la realtà era quella. Ok, quindi, quali erano i tuoi perché? Perché ti sei messa insieme, ti sei fidanzata con quest'uomo che lui adesso si è fidanzata con un'altra. Quali erano i tuoi perché? Era l'amore dove ti palpita il cuore a mille, farfalle nella pancia, vuoi sempre stare con lui, fare l'amore con lui dalla mattina alla sera, oppure avevi dei perché? Quindi, o magari vuoi fare i figli con lui, vuoi crearti una famiglia, avere una stabilità, vuoi avere da lui e che ti dà una sicurezza economica, vuoi fare un matrimonio e sfoggiare il tuo abito bianco, fare la cerimonia davanti agli amici e parenti. Cioè, ognuna ha i suoi perché, perché si mette insieme a una persona. C'è l'amore, quello là, con le farfalle nella pancia, specialmente in adolescenza, e ci sono dei perché ti metti con quella persona. Ok, tu per quale motivo ti sei fidanzata con lui? Perché sentivi davvero le farfalle? O perché avevi i tuoi motivi? Pensaci bene, rifletti. Una volta capito il perché ti sei messa fidanzata con lui, avrai più chiarezza. Io una volta che ho capito che il mio ex, no, anzi, me l'ha detto lui, non a me, ma a un amico, ha detto, io mi sono sposato con Silvia perché erano una brava ragazza. Lui cercava una brava ragazza e io era la classica brava ragazza, giovane, bella. Io mi sono sposata con lui perché era sereno, tranquillo, molto culturalmente, molto intelligente. non mi picchiava, non mi fumava, insomma, era l'opposto di mio padre. Io cercavo questo prototipo ed ero tranquillo, calmo. Ecco, a me piaceva queste qualità e mi sono sposata con lui anche per questo. La sessualità nel nostro caso proprio non c'era, non esisteva. E quindi pian pianino, anno dopo anno, le cose vengono a galla, quello che non funzionano. E ci siamo separate, divorziate. Fai chiarezza su queste cose. Datti le risposte chiare a queste domande. I tuoi perché. Sentivi le farfalle, ok? Lui davvero era innamorato di te? O ti sembrava, appariva così? Avevi salami sugli occhi e non vedevi la realtà? Probabilmente anche lui cercava in te e ha trovato alcune qualità ma non gli altri molto importanti per lui. o probabilmente è uscito fresco da una relazione un po' dolorosa per lui e tu servivi da cuscinetto tra una relazione e l'altra, da chiodo scaccia chiodo. Oppure proprio non facevi per lui, non fai per lui chimicamente, non c'è attrazione carnale. Ecco, ricordati, lui aveva voglia di fare l'amore con te, ti cercava sempre, non vedeva l'ora, appena li vedevate ti buttava lì sul lettone e facciamate scentille. Era così o dovevi farti bella, istigarlo in qualche modo, pregarlo alla fine, chiedere di fare l'amore? Ecco, se lui è andato con un'altra, io non penso che faceva proprio l'amore sempre, spesso, ed era molto focoso, molto passionale con te, ti baciava tanto, faceva tanti preliminari, dava tanto. Ecco, in questi casi io ne ho dei dubbi. L'uomo non è innamorato, solo che noi non vediamo, ce lo dicono anche le amiche, guarda che... E tu non è vero, proprio non ascolti, proprio non ascolti. Infatti le mie amiche mi dicevano, ma te l'avevo detto, Silvia! Io, quando? Proprio non mi ricordavo quando me l'aveva già detto. E poi a fatica me lo ricordavo e mettevo un po', facevo uno più uno. Ecco ragazzi, probabilmente non è innamorato, non era innamorato, e anche se questa relazione fosse andata avanti senza che lui si fidanzassi con l'altra, sarebbe stata trascinata e portata a una relazione infelice dopo nel tempo. E sessualmente anche, tu, essendo innamorata, vuoi fare l'amore con lui, arrivi davvero a un periodo quando lo devi pregare, ti trucchi, metti la lingerie, compri di tutto e di più, ti depili, ti profumi, ti fai di tutto e di più, ti addobbi come l'albero di Natale, e lui proprio non ti caga minimamente. Passi davanti a lui, davanti al divano che lui c'è col telecomando, nuda, profumata, sexy, scarpe di tutto quello che vuoi, e lui, spostati che devo vedere la partita, dai che stai iniziando il mio film preferito, la mia serie preferita, via via via. Ma sei ridicola, ma perché ti stai umiliando così? Insomma, accade questo. quindi se lui si è fidanzato con un'altra, e si è innamorato anche lui di un altro, probabilmente sareste arrivata a una relazione così, via via, a pregarlo, a umiliarti ancora di più. Ne vale davvero la pena. Ok. E, torniamo ai tuoi perché. se tu vuoi fare, volevi, sognavi di fare, di avere figli con lui, pensa, ma è l'unico al mondo con cui puoi fare dei figli belli, intelligenti, sani? O ce ne sono anche altri in tutto il mondo, in tutto il tuo paese, città, se ci pensi bene. Se vuoi fare la famiglia, è l'unico al mondo con cui puoi fare una famiglia bella, felice, felice, sottolineo. La sicurezza economica, se uno dei tuoi perché è questo, se è l'unico che te la può dare, anche tu puoi imparare a farlo, a dartela, e anche gli altri possono contribuire, ma non proprio lui, può essere anche altro. La serenità familiare, quel nido che tante donne vogliono, sognano, è l'unico uomo che te lo può dare e ti avrebbe dato veramente la serenità, un bel nido accogliente, felice, sano. pieno di amore. Ne vale davvero la pena stare con lui, visto che sei fidanzato con un'altra? Ne valeva la pena? Adesso ripassa un po', torna indietro con la memoria, con la mente, e ricordati. C'erano dei momenti in cui tu dicevi oddio, ti veniva quella chiarezza, quella lucidità improvvisa e dicevi ma probabilmente non è proprio così innamorato. Appena ti spiorava un po' questo pensiero in che occasioni ti è successo di avere il dubbio sui suoi sentimenti sinceri, veri, l'amore? In che situazioni? Quando magari parlava male di te? Quando magari ti prendeva in giro davanti agli amici? o quando non ti cercava intimamente? Insomma, quando ti veniva i dubbi? In che momenti? Ecco, se tu ti ricordi che esistevano questi momenti, in che situazioni esattamente, ti viene anche da pensare ma forse non ne vale la pena stare con lui. Ma che lascia? Che se ne vada con un'altra? Ecco, ti viene questa lucidità e questo pensiero e il dolore diminuisce. La tua confusione prende una forma di chiarezza, di meno dolore. Ok? Quando abbiamo più chiarezza sulla situazione, abbiamo più risposte a mille domande che ci facciamo e il dolore diminuisce e si allontana. La realtà in cui tu hai vissuto era ben diversa da quello che immaginavi tu. Magari ti sei fatta un castello e immaginavi già il futuro, la famiglia, la felicità, viaggi, macchina, casa, bella redata, non so, che sei fatta una favola, un cinema, tutto nella testa, ma la realtà era molto diversa e che non la vedevi. Innamorata, ceca, salami. Ok? Adesso tu hai detto immagino che lui fa l'amore con lei e io sto soffrendo. Cosa le dà lei di più? Che faccia l'amore? Probabilmente ha trovato la chimica, l'attrazione sessuale e non solo per lei. Ma noi siamo fatti, noi donne siamo fatti per tutti quanti? Con tutti quanti abbiamo la chimica, l'attrazione sessuale e tutte quelle caratteristiche che cerchiamo, che vogliamo, che loro hanno, insomma, corrispondiamo a tutti quanti? A tutti? Secondo me no. Sei fatta per un tipo di uomo, per un uomo, ma anche per un altro, ma probabilmente anche per un altro, non esiste solo uno per noi, esistono più uomini adatte a noi. Bisogna andare a cercarli, a trovarsi, ok? Ma c'è una grandissima, un'ampia quantità di uomini per cui non siamo proprio fatti. Tu cerchi il biondo, quello è moro, non ti piace. Tu cerchi uno, un'altezza alta, quello è troppo basso, non ti piace, non è fatto per te. insomma, c'è un'ampia, una vasta quantità di uomini che non sei proprio fatta per lui, né sessualmente, né caratteristicamente, né da nessun punto di vista. Ci sono poche caratteristiche che magari coincidono, ok? Accettiamo questa cosa. Va bene che lui faccia l'amore con lei. Ti ha fatto un favore, ti ha risparmiato anni e anni di infelicità che facciano bene l'amore, il sesso tra di loro. Ti dai la possibilità di incontrare un altro perché quando passa il tempo e ti arriva quella lucidità, ti sei risposta a mille domande, ti dici oddio, ma cosa mi sto perdendo? Ma meno male che se n'è andato e ho trovato, ho la possibilità di trovare un altro adatto a me. Arriva, arriva, arriva questo momento, ci passerà un po' di mesi ma ci arriva, ti sei sicuro? È arrivata a me che sono rimasta sola con un bambino, con un mutuo da pagare, con lui che si è volatilizzato con un'altra scura di pelle di un'altra nazionalità cubana, non so di che nazionalità era, nera, scura, completamente, con le cosce grosse che lui diceva sempre io non amo le donne con le cosce grosse, con le donne con le cosce grosse, l'ha trovata e si è innamorata, quindi se mi è passata a me passerà anche a te. Allora, allora, anche c'entra molto il fatto di essere, se tu sei dominante nell'intimità e stai con uno dominante che vuole dominare nell'intimità, stessualmente parlando, vi scontrate, non siete fatti a livello sessuale uno per l'altro, ma neanche nella vita reale, perché dominate entrambi e vi state scontrando. oppure tutte e due amate il partner, cercate un partner dominante e volete essere dominati, nel mio caso con il mio ex marito tutte e due amavamo, volevamo essere dominate, io amavo un uomo alfa che mi domina, lui la stessa cosa, era molaccione, cercava una donna forte che la dominava in tutti i sensi, nell'intimità e nella vita quotidiana di tutti i giorni, quindi lì al letto proprio non c'era, non c'era proprio, non ci avvicinavamo per niente e anche questo può anche creare uno squilibrio nella vostra relazione, se è un dominante ama la donna da dominare, se è uno che ama la donna che la domini, deve cercare quella che domina lui, ok? Cosa puoi fare in questi casi? In questi casi ragazzi lasciamo il tempo che passi diamo il tempo a noi stessi di trovare tutte le risposte alle domande, mille domande che ci facciamo, usciamo il più possibile fuori dalle mura domestiche perché quando stai da sola i pensieri iniziano, vai in tilt, vai a piangere, a ricordarti i momenti belli, a farti di nuovo le domande e vai verso uno stress e vai anche verso la depressione, esci di casa, trova quell'amica angelo che ha le orecchie e pazienza per ascoltarti così ti sfoghi, sai un'amica così tienitela ben stretta perché in questi casi anche gli amici, le amiche scappano, non vogliono stare vicino a una persona che piange, pianicolosa, negativa, che le assorbe, le assorbe da lei la negatività, scappano anche gli amici. Quando io ero in una situazione così, quando mi stavo separando con il mio ex marito, appena trovavo un'amica e lei aveva detto, non l'avevo detto, non me l'avevi detto, non l'avevo capito, perché io proprio io, insomma, e quindi tutte le amiche mi scappavano. Sai un'amica, paziente, con le orecchie disposte ad ascoltarli, tienitela, ok? In parallela, uscendo fuori da casa, fai tutte quelle attività che ti piacciono fare, che ti piace fare. Se ti piace fare uno sport, approfitta, devi muoverti in quel periodo, ti piace leggere, leggi, fai qualsiasi attività o hobby, questo è il periodo giusto che tu li faccia per spostare la mente altrove, nelle cose positive, ok? Quando capisci che proprio non sei stata fatta per lui e lui per te, quando capisci bene questo concetto, inizia a perdonarlo e quando perdoni riesci a svoltare pagina, ok? Passerà un mese, passerà due, passerà tre, dipende quanto riesci a spostare la tua mente verso le cose positive per te, accettati, non c'è niente, non ti devi dare nessuna colpa, nessuna colpa perché sei fatta bene e se c'è qualcosa da migliorare, migliora, devi fare dieta, fai dieta, devi fare movimento, fai movimento, migliora te stessa perché dopo ci sarà un periodo quando vi rincontrerete e se tu sei migliorata in varie aree della tua vita, fisicamente, mentalmente, hai raggiunto dei obiettivi, lui si pentirà un pochino, cioè pentirsi non vediamo, dipende in che quantità, ma dirà caspita, però è cambiata, è migliorata, adesso è diversa, forse qualche, boh, magari ci tornerei, non si sa, ma avrai la tua rivincita, migliorandoti, questo lo devi fare, anche perché ti serve per le prossime relazioni, ok? che lezione hai imparato da questa esperienza? Perché non è un fallimento, ragazzi, sbagliamo spesso quando pensiamo ho fallito, sono una fallita, non sono capace di tenermi un uomo, chissà se troverò un altro adatto a me di cui mi posso innamorare ancora, non è un fallimento, ragazzi, la vita non è finita qua, ma questa esperienza ti è servita di sicuro per capire, comprendere alcuni concetti, alcune cose molto importanti, che cosa hai imparato da questa esperienza, da questa esperienza che dovevi fare? Che cosa hai imparato? Fai proprio l'elenco, ho imparato questo, 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 questo. Quando le ragazze me lo dicevano dovevo stare più attenta, quando avevo il minimo di dubbio che non era innamorato, dovevo stare più attenta, riflettere di più, dovevo passare questo passaggio perché finalmente in questo periodo mi sono messa a dieta, perché stavo lievitando un po' troppo, questo mi è servito anche per questo, è stata una lezione. Ecco ragazzi, facciamo chiarezza, quando hai più chiara la situazione, capisci bene le cose, il dolore diminuisce, basta farsi tante domande, basta, 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 la vita va avanti e ci sono tanti altri uomini fatti per te e tu per loro. Ragazze, se ancora siete in un periodo di confusione, avete voglia di sbloccarvi, andare dritti verso la vostra felicità, amare voi stessi, il vostro corpo, così com'è, migliorare, allora chiamatemi, scrivetemi, cliccate sul link che trovate qua e vi spiegherò come possiamo fare insieme un bel percorso di svolta, di cambiamento, di miglioramento, affinché tu arrivi a quello che tu desideri, ok? Clicca sul link, fissa l'incontro gratuito con me e ci vediamo io e te. Ciao ragazzi, un bacione, a dopo.